Allora, complimenti ai miei giocatori che hanno interpretato, secondo me, discretamente bene la partita. Credo che l'abbiamo meritata perché l'abbiamo condotto sempre, anche se ci sono stati dei piccoli errori, dei piccoli cali anche di concentrazione, soprattutto nella seconda parte della partita, ma ci sta anche perché ci aspettavamo una reazione da parte dell'Eurobasket. Tanta volta bisogna capire anche che bisogna cavalcare, soprattutto dal punto di vista offensivo, determinati giocatori, come per esempio Brandon Jefferson, che già nella prima parte della partita c'era 3 su 3 da 3 punti. È vero che l'abbiamo mostro, il nostro obiettivo dal punto di vista offensivo è quello di cercare di trovare il miglior tiro possibile per quanto riguarda l'attacco e quindi cercare di trovare il compagno libero. Credo che nella prima parte della partita siamo stati bravi in questo, a passarci la palla e a trovare sempre dei tiri aperti, e per eventualmente anche con palla dentro. Nella seconda parte invece abbiamo un po' incespicato in questo, e per ringerito a nostre e anche perché comunque la difesa di zona e la difesa di Roma, la falsa zona che ha fatto Roma, ci ha messo un pochettino in difficoltà. Troppe volte palleggiavamo e c'era poca circolazione di palla e poi eravamo strozzati per andare alla ricerca di un tiro comodo. Grazie a tutti.